Luana Rainone, residente a San Valentino Torio, sarebbe stata uccisa con un fendente alla gola, sferratole con un coltello da cucina al culmine di una lite. La donna era uscita di casa alle 14 del 23 luglio scorso, era sposata e madre di una bambina di otto anni. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ma le ricerche non avevano dato alcun esito fino a venerdì scorso. Il giallo è stato risolto quando i carabinieri hanno chiuso il cerchio e raggiunto l'amante della donna, Nicola del Sorbo, 34 anni, di Sant'Egidio del Monte Albino. L'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità e condotto gli investigatori al pozzo dove aveva gettato il corpo di Luana nei pressi di una casa di roccata a Poggio Marino. Lui è padre di sette figli, alcuni avuti dal precedente matrimonio, altri frutto dell'amore per l'attuale compagna che da un po' di tempo è ospite di una casa famiglia insieme ai figli avuti con il presunto omicida che comunque pare fosse particolarmente legato a lei. Difatti la tragedia si sarebbe consumata, secondo le testimonianze rese dalla 34enne agli inquirenti, nel momento in cui Luana è tornata a chiedere al suo amante di lasciare la sua donna. Questi in sintesi fatti accaduti all'interno della baracca in cui vive del Sorbo. Lui si rifiuta di lasciare la compagna ai figli, lei si arrabbia e gli lancia contro il cellulare, lui afferra un coltello da cucina e la colpisce alla gola, avvolge il cadaver in un lo infila in una busta di spazzatura e lo butta nel pozzo delle Acque Nere, situato in un terreno poco distante dalla baracca in cui l'aveva uccisa. Tutto è accaduto dopo che entrambi avevano fatto uso di sostanze stupefacenti. Il presunto assassino è rinchiuso nel carcere di Salerno, le accuse per lui sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere.